Salve a tutti. Allora, ieri sera il PSQ ha fatto una partita, sono con la maglietta del PSQ, una partita emozionante, anche se l'abbiamo persa, è stata una partita bellissima perché abbiamo giocato contro una squadra fortissima che è il Koala ed era veramente tesa la partita perché ogni partita è stata tesissima fino all'ultimo. Ieri sera bisogna dire che il macellaio ha fatto il macinato di tutti credo perché ieri Sayu è stato fortissimo, ha chiuso il 170, ha chiuso il 127 ieri sera, quindi grande Sayu ieri sera, bravi anche gli altri ragazzi, hanno tutti giocato molto bene ieri sera, la partita non era facile perché era contro una squadra molto forte. Per quanto mi riguarda ho giocato contro un giocatore molto forte, loro avrebbero fatto il punto della partita e io avrei fatto il 4 a 4 se vincevo, quindi era una partita difficile, io non sono perfettamente in forma ancora, ho fatto solo due giorni di allenamento, quindi non sono ancora il Fufi Power o il Bulldozer di sempre insomma, però sapevo che dovevo affrontare questa partita a cercare in tutti i modi di portarla a casa, ma come ho sempre detto io sono una pigna in culo nel senso che posso vincere con chiunque, magari anche perderla magari, ma quando devo vincere è molto molto difficile giocare contro di me perché sono un gran rompi ball e devo dire che ieri sera quando ero sotto 2 a 1, ho detto adesso ragazzi comincio a tirare e questo è stato, ho fatto anche 180 ieri sera, è stata una partita molto tesa, molto tesa si poteva tagliare la tensione con la motosega, devo dire la verità che è stata giocare così bene affigata, anche se abbiamo perso la partita, abbiamo giocato talmente forte che dobbiamo solo migliorare da questa cosa, ieri sera il grande Framboas, giocatore stellare, ha chiamato uffo per le sue capacità, ha chiuso 130 in maniera stratosferica, erano in svantaggio e ha chiuso 130 veramente un gran giocatore che è un giocatore del quale, quindi, ma l'insegnamento di oggi è mai mollare fino alla fine, assolutamente tenere duro perché finché l'avversario non ha chiuso, la partita non è finita, bisogna crederci fino in fondo, essere stoici, essere forti, mai farsi buttare giù, mai, mai, se non ti entra una tripla, te ne entrerai un'altra se... è vero e testa, testa, testa nel sapere dove posizionarsi per fare la chiusura perché come ho sempre detto, la chiusura è importantissima, guai a non sapere dove mettere le frecce per chiudere, è fondamentale, fondamentale, da una chiusa si può sbagliata, si può perdere una partita che sembrava facile all'inizio, quindi questo è assolutamente importante avere sempre in testa, anche se magari la chiusura dice di fare una cosa, ma nella tua testa dici no, questa cosa stasera non me la sento, faccio quest'altra, avere sempre due possibilità in testa da poter fare, perché magari il tuo braccio quella sera non è adatto magari a fare un numero, ma ti senti più pratico a fare un altro, quindi anche se può sembrare strano agli altri, ieri sera ad esempio a un certo punto avrei dovuto fare un 17 e mi sarei messo col 32, mi ha detto no ma è free a cazzo, rimargo col 31 e poi faccio 15, 32, 15, 8 doppio, perché mi sento così, è così è stato alla fine, perché è importante avere in testa quello che dobbiamo fare, io sapevo esattamente quello che stavo facendo, non stavo tirando la fava di cane come magari qualcuno ha pensato, io sapevo esattamente ho detto boh, freccia del singolo e l'8 doppio mi viene perché il 32 non lo so, è così stato, quindi avere testa, avere fino alla fine concentrazione, se poi l'avversario c'è un po' di meno meglio, comunque dai, è stata una partita veramente emozionante, veramente emozionante, veramente tiratissima fino alla fine, spero che ogni partita da adesso in poi sia tosta, magari vincerla, no, abbiamo vinto sei partite di fila, è la prima che perdiamo, ma persa la testa alta, perché con una squadra così forte poteva essere meglio, era molto fattibile la vittoria di sera, per poco non ce l'abbiamo fatta, quindi insomma va bene così, insomma, l'importante è giocare, giocarselo alla fine in fondo, che è una cosa super importante, quindi quello che ho detto mi sembra una cosa intelligente, credo, abbiamo le stelline, ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio tutti, vi farò gli auguri di Natale più avanti, saluto a tutti.